lo sportello dei sogni l'associazione che lei ha fondato tanti anni fa sbarca in abruzzo grazie a questo accordo con la società di salvamento sezione di pescara e la conf commercio di pescara esatto lo sportello dei sogni è un'organizzazione di volontariato che nasce per realizzare i desideri del cuore di tutti i pazienti oncologici ricoverati presso le strutture ospedaliere d'italia nasce perché la terapia dei sogni è una terapia che aiuta psicologicamente il paziente perché al paziente nel momento in cui viene chiesto qual è il tuo desiderio del cuore sposta l'attenzione appunto dal periodo buio della malattia a quello che potrebbe essere un'eventuale realizzazione del desiderio del cuore che potrebbe essere una gita in gondola un diventare per un giorno capotreno sono esempi di sogni che abbiamo già realizzato ai pazienti viene regalata questa meravigliosa scatola che noi definiamo kit dei sogni al cui interno c'è la stella bacchetta magica che serve un po simbolicamente per fare le magie e all'interno c'è la federa per il cuscino una federa che serve per simbolicamente per sognare per colorare l'ambiente asettico dell'ospedale chiunque può contattarci e visitare il sito www.losportellodeisogni.it o scrivere info chiocciola losportellodeisogni.it L'amministrazione già da anni cerca di mettere insieme questo connubio tra sport in modo particolare e solidarietà e questa cosa ci viene proprio in maniera precisa perché l'amministrazione sta organizzando diversissime manifestazioni sportive dal carattere internazionale e sposare un progetto di questo genere sicuramente fa molto bene soprattutto perché donare fa bene non solo a chi lo fa ma non solo a chi lo riceve ma anche a chi lo fa e quindi oltretutto trovare un'associazione insieme all'amministrazione che sente sensibile a questa tematica sicuramente nasceranno bei progetti Con piacere accogliamo anche quest'altra associazione e quest'altra iniziativa che è approdata a Pescara e siamo veramente felici e mettiamo a disposizione tutto il nostro know-how tutti i nostri mezzi e le nostre forze con tutti i nostri volontari per esaudire i sogni di tutte queste persone che hanno bisogno ovviamente di realizzare i propri sogni Il commercio sta vicino anche alle missioni sociali, questo noi riteniamo che sia una missione di grande nobiltà e quindi noi diamo tutto quello che serve, il supporto a questo sportello